Riapre al pubblico il Museo Archeologico di Sala Consilina presso il Polo Culturale Cappuccini, dopo il periodo di chiusura dovuto agli interventi di ristrutturazione che hanno interessato l'edificio che l'ospita. Il taglio del nastro è previsto per lunedì 24 settembre alle ore 11. L'appuntamento è stato ufficializzato nel corso della conferenza stampa di presentazione delle Giornate Europee del Patrimonio, svoltasi a Salerno presso la sede della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paisaggio, diretta da Francesca Casule e dalla quale hanno preso parte il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, l'assessore alla cultura Gersomina Lombardi e la direttrice dell'ufficio archeologico Anna Di Santo. È stata un'occasione importante per inserirci in una filiera culturale di livello regionale. Le giornate del patrimonio e la nostra riapertura come appendice alle giornate del 22 e 23 settembre sono state un'occasione importante per far denotare come condividere un progetto in una filiera culturale di notevole spessore ha portato i suoi frutti, perché la riapertura ha significato un nuovo progetto scientifico, grafico, di riallestimento per il MASC, l'acronimo che viene indicato per Museo Archeologico Sala Consilina, con un simbolo chiaro, riconoscibile, quindi un progetto grafico importante, che renderà sempre riconoscibile in ambito non solo regionale ma anche nazionale il nostro museo.